Che cos'è una macchina ricamatrice? Una ricamatrice automatica è una macchina come questa che consente di eseguire punti decorativi come questi su tessuti secondo un disegno predeterminato. E cosa può fare una ricamatrice? Naturalmente può ricamare ed è possibile personalizzare oggetti in tessuto con il proprio nome. Oppure si possono creare accessori moda come orecchini, collane e bracciali realizzati in pizzo o in macramè. Altre cose che si possono ricamare sono le patch da attaccare su giubbotte di jeans o zaini o ancora si può creare bellissimi disegni per trapuntare piccoli quilt. Anche il paper piecing si può fare a telaio con la ricamatrice così come il patchwork e anche l'appliqué. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che si possono realizzare interi progetti a telaio come questo astuccio a forma di roulotte. Ma come funziona una ricamatrice? Se si desidera per esempio ricamare questo disegno bisogna comunicare alla macchina tutte le informazioni necessarie per realizzarlo in un linguaggio però che lei può capire. I linguaggi sono i formati dei file da ricamo e ce ne sono davvero tantissimi perché ogni marchio ha il proprio formato. Quindi non possiamo prendere un'immagine qualsiasi da internet e inviarla alla macchina ma dobbiamo avere un file da ricamo realizzato non solo nel formato giusto ma anche nella dimensione definitiva. E quindi come si ottengono i file da ricamo? Solitamente le macchine ricamatrici hanno già al loro interno una galleria più o meno fornita dei disegni e di alfabeti già pronti da ricamare. Se però vogliamo altri soggetti i modi per ottenere i file da ricamo sono principalmente tre. Si possono acquistare in chiavetta o in file da scaricare oppure si possono ottenere gratuitamente da molti siti specializzati o scambiandoseli nei gruppi di ricamo. E infine si possono realizzare partendo da zero digitalizzando un'immagine qualsiasi con un software apposito. Vediamo quali sono i software da ricamo. Neki commercializza tre software da ricamo. Uno per principianti chiamato Essential, uno intermedio chiamato Creative e uno avanzato chiamato Pro. Questi software sono tre versioni del programma Drawings 11 che è uno dei software professionali migliori in commercio. Vediamo le differenze. Essential è un software basico ma ha già tantissime funzioni. In particolare può trasformare in ricamo ogni tipo di font through type. Trasforma in ricamo ogni immagine di tipo vettoriale e può modificare i nodi dei vettori e i punti del ricamo. Quindi anche se si può importare solo un'immagine vettoriale sarà poi possibile modificarla una volta importata. Creativa tutte le funzioni di Essential ma in più può anche trasformare in ricamo un'immagine jpeg, trasformare in ricamo una fotografia con la funzione photo stitch e può disegnare in vettoriale grazie al pennino e alle forme. La versione più avanzata è Pro che è un software molto potente e oltre a tutte le funzioni già viste può anche modificare la densità del ricamo, creare sfumature di colori e direzionare i punti seguendo un tracciato personalizzato. Ma una volta che ho pronto il mio disegno nel formato giusto e nella dimensione giusta, come lo importo nella macchina? Con chiavetta USB per esempio. I file si devono prima caricare sulla chiavetta e poi si inserisce la chiavetta nella porta USB della macchina. Questo procedimento è utilizzato dal modello Neki Logica NCH01AX e dalla maggior parte delle ricamatrici in commercio. L'altro sistema è il Direct Wi-Fi. Per ora questo metodo è esclusivo del modello Neki Logica NCH05AX e permette di comandare la macchina direttamente da un dispositivo mobile tramite un'applicazione che permette anche di combinare testo e ricami diversi e di apportare piccole modifiche, oltre che convertire i principali file da ricamo. Tutto chiaro? Se non è tutto chiaro per ulteriori consigli rivolgiti al tuo rivenditore Neki di fiducia o chatta con i nostri esperti sul sito NekiShop.com NekiShop.com NekiShop.com